L'ultimo viaggio della Salma di Silvio Mannina. Le esequie dell'uomo, vittima di brutale omicidio, si terranno a Milano mercoledì sera. Martedì mattina il corpo ha lasciato la camera mortuaria dell'ospedale infermi di Rimini. Gli operatori delle onoranze funebri hanno trasportato la bara verso la Lombardia. C'era anche la famiglia di Mannina, padre, madre e parenti scortati da una pattuda dei carabinieri di Rimini. Prima della partenza un momento di commozione e trasporto per i familiari che hanno voluto visitare il Lago Azzurro di Sant'Arcangelo, luogo in cui lo scorso aprile è stato trovato il cadavere di Mannina, brutalmente ucciso da Dritan De Mirai in quanto un nuovo compagno dell'ex fidanzata dell'uomo, Lidia Nusdorfi, anche la tragicamente uccisa per mano del fornaio albanese. Secondo le indagini fu l'attuale fidanzata di De Mirai, Monica Sanchi, ad inviare un sms a Mannina, tendendogli una trappola per attirarlo in casa del killer a Rimini. Qui fu picchiato brutalmente e poi ucciso con un filo elettrico intorno al collo, avvolto in un lenzuolo bianco e con un cappuccio di plastica, infine seppellito alla cava del Lago Azzurro di Sant'Arcangelo. Le indagini dei carabinieri di Rimini hanno portato al fermo anche di Sadik Dine, cinquantenne zio di De Mirai, complice nell'uccisione di Mannina e nell'occultamento del suo cadavere.